A metà classifica, in linguaggio calcistico, si potrebbe dire vicino alla zona che ti consente di disputare una Coppa Europea. Stiamo parlando del reddito medio del 2021 dei Civitavecchiesi, che si è attestato a 14.466 euro. Una cifra che nelle realtà medio-grandi del Lazio è inferiore a Roma, ampiamente davanti con un reddito pro capite di 18.037 euro. A Rieti, che vanta 15.266 euro, e a Viterbo, che si è fermata a 14.690 euro. Peggio di Civitavecchia ci sono Latina, con 14.269 euro di reddito medio, e Frosinone, i cui residenti nel 2021 hanno mediamente guadagnato 14.033 euro. Gli importi reddituali sono stati ricavati attraverso l'esame delle certificazioni uniche dei modelli 730 e unico presentati nel 2022, e, come sempre, relativi all'anno precedente. Civitavecchia, insomma, non è messa malissimo. Certo, a concorrere al raggiungimento della posizione di metà classifica ha sicuramente influito la presenza in città di aziende ed enti le cui retribuzioni sono particolarmente alte e totalmente dichiarate. Analogo discorso, fatto in misura maggiore a fronte della presenza di ministeri, enti, uffici regionali e provinciali, può essere fatto per Roma, che non peraltro guida la classifica regionale. Diversi riscontri per quanto concerne, invece, i comuni medi e piccoli del territorio. Quello messo meglio è Santa Marinella, dove il reddito medio del 2021 è stato di 15.074 euro, 600 euro più alto rispetto a quello di Civitavecchia. Seguono Tarquinia, che evidenzia un reddito medio di 13.878 euro, Cerveteri con 12.741, Allumiere con 12.661 e Tolfa con 12.099 euro. Chiude la classifica denotando di essere la realtà più povera del territorio, Ladispoli, dove il reddito medio del 2021 è stato di soli 11.807 euro.